non si mette il posto 98-80 mai visto? oh Gesù è pieno che si apre il carro è pieno che si apre il carro Zepcara ha diseguito il carro no ci ha fatto la guerra figlio hai sei cilindri sto pollo? mi sembra quattro turbo mi sembra quattro forse dove c'è c'è lì qui? non c'è più se ormai è entrato qui che mia strada era da l'altro perché il deus ci mette così tanto? minchia tutto blu ma che bello grazie 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 lei legge in 155 Grazie a tutti. Grazie a tutti.